l'angoscia degli italiani oggi è a livelli mai visti lo dice il presidente dell'ordine degli psicologi al Corriere della Sera io la notizia l'ho letta sul Corriere della Sera e così come l'ho letta io ve la metto come lì in riassunto di questo video sì 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 proprio così il presidente dell'ordine degli psicologi ha dichiarato l'angoscia degli italiani oggi è a livelli mai visti io non lo so se il presidente dell'ordine degli psicologi italiani l'ha vista l'angoscia degli italiani al tempo della seconda guerra mondiale non lo so che facciamo presidente dell'ordine degli psicologi italiani tu l'hai misurata l'ansia l'angoscia degli italiani al tempo della seconda guerra mondiale e tu presidente dell'ordine degli psicologi italiani l'hai misurata l'angoscia degli italiani al tempo della prima guerra mondiale quando ci furono quattro anni le trincea 1914 15 16 17 18 e centinaia di migliaia milioni di soldati italiani nelle trincee l'hai misurata l'angoscia degli italiani e tu presidente dell'ordine degli psicologi italiani l'hai misurata l'angoscia delle popolazioni europee al tempo della guerra dei trent'anni 1618 1648 la guerra di religione hai fatto mai dei confronti con l'angoscia degli italiani e degli europei in occasioni trascorse perché dici queste cose presidente dell'ordine degli psicologi italiani perché vuoi aumentare le chance professionali ed economiche degli psicologi ma caro presidente dell'ordine degli italiani dell'ordine degli psicologi italiani nei confronti dell'angoscia degli italiani c'è questa mia opera storico mitologica la stippa del serpente basta leggere questa mia opera storico psicologica che parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato che passa qualsiasi tipo di angoscia capito presidente dell'ordine degli psicologi italiani ok caro presidente a te a corriere della sera e a tutti gli italiani tanti cari saluti